C'è il bilancio per l'SM, ma per ora il presidente Francesco Rosettini resta al suo posto. Si è riunita l'assemblea dei soci, ha spiegato l'amministratore unico Francesco Rosettini, e c'è un utile di esercizio pari a quasi 15.000 euro, pagate le imposte, e di euro 100.000 prima delle stesse imposte. Inoltre 170.000 euro sono stati accantonati in un fondo per rischi futuri, e ha riaggiunta tale somma a quella già accantonata, nell'esercizio precedente oggi l'SM ha da parte circa 200.000 euro per far fronte ad eventuali difficoltà. Insomma, gli obiettivi strategici fissati per il 2017, secondo Rosettini, sono stati in gran parte raggiunti. Bilancio positivo, ma per ora nessuna nomina per quanto riguarda il nuovo presidente. Come chiesto dal sindaco Pierluigi Biondi nell'ambito delle nomine per le partecipate, gli attuali presidenti avrebbero dovuto approvare i bilanci e poi, se non in scadenza di mandato, di mettersi per far spazio al nuovo presidente. Stando alle voci, quello nuovo dell'SM dovrebbe essere il sindaco di Navelli, Paolo Federico, in quota Forza Italia. Il motivo del ritardo potrebbe essere la volontà di evitare grane su eventuali incompatibilità allo stesso Federico, fino all'anno scorso consigliere provinciale. Federico sarebbe incompatibile fino a fine giugno, quando l'incompatibilità cesserebbe. Intanto, per quanto riguarda l'SM, Francesco Rosettini ha evidenziato tutti i punti di forza e tutti gli aspetti positivi. Oltre al bilancio, è stata rinforzata l'attività svolta da SM di selezione, trattamento e trasporto delle macerie con le convenzioni con i comuni di San Pio e Villa Sant'Angelo. Nel 2018 è in procinto di essere sottoscritta quella con Carapelle e Calvisio. È ancora in corso la convenzione con l'USLA per il trattamento delle macerie raccolte e stoccate presso l'ex discarica di Pontignone. Nel mese di giugno 2016, SM è provveduto ad aprire un centro di raccolta presso il nucleo industriale di Bazzano. Nel 2018 è previsto un ampliamento del centro, con l'apertura di un centro per il riuso, cioè uno spazio dove i cittadini possono conferire i propri beni usati al fine di venderli a prezzi vantaggiosi con lo scopo di andare incontro alle classi sociali più deboli. Sarà creata nella zona ovest una struttura adatta a consentire agli utenti il conferimento dei rifiuti urbani assimilabili non intercettabili dalla raccolta differenziata porta a porta. Nel 2017 si è vista anche la diminuzione dei quantitativi di rifiuto indifferenziato inviato a conferimento smaltimento e ciò in relazione all'espansione sul territorio della raccolta porta a porta. Sono anche terminati i lavori di realizzazione della piattaforma ecologica di tipo A di una stazione ecologica adiacente presso lo stabilimento SM di Bazzano. Con la messa in funzione della piattaforma, l'SM potrà diventare un punto di riferimento per la selezione e valorizzazione dei rifiuti di tutto il comprensorio, oltre che del comune dell'Aquila.